Pronti i primi passi verso la demolizione delle scuole superiori dell'Aquila danneggiate dal terremoto. In particolare ci si riferisce alle scuole Ex-ITAS ed Ex-Ipsiasar. La provincia ha infatti abbandito gli avvisi di affidamento lavori. Si cercano ora le ditte per il progetto esecutivo dei lavori di demolizione delle due scuole in Viale Duca degli Abruzzi e a Pineta Signorini dopo l'approvazione del progetto preliminare nel 2018. L'approvazione del progetto esecutivo è prevista per il 2020. Il passo successivo sarà una gara europea per l'affidamento dei lavori e infine l'esecuzione vera e propria dei lavori stessi che dovrebbe terminare nel 2023. In totale la cifra è di 15 milioni per i lavori di entrambi gli appalti che rientrano nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 della provincia. Nell'edificio di Viale Duca degli Abruzzi, essendo stato l'ITAS soppresso, confluirà l'Istituto Tecnico per Geometri, probabilmente l'unica scuola superiore in centro, visto che nel liceo classico e nello scientifico torneranno nelle loro sedi storiche che sono ancora inagibili. Gli studenti dell'Ipsiasar torneranno invece nell'edificio in muratura a Pineta Signorini, dove ora ci sono i MUSP. Potrebbero essere indirizzati durante i lavori nei MUSP di Pettino, che oggi sono occupati dagli studenti del Cotugno, che l'anno prossimo dovrebbe tornare nella sede istituzionale di Via Leonardo da Vinci dopo la fine dei lavori.